barzelletta un avvocato ai primi armi se apre lo studio e dice al portiere dice senta appena vi è qualcuno che mi cerca mi può avvertire c'è come no questo va allo studio a un certo punto gli citofano al portiere dice guardi c'è una persona che sale per lei dice sì grazie questo apre subito la porta allo studio gli accosta lui va subito dentro allo studio suo prende il telefono per far finta che stava al telefono per dassa importanza ecco che questo dentro e lui sì sì pronto sì sì no non si preoccupi i far cena a quello da mettere a sede sì 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 no 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 non si preoccupi ci penso io quella causa per me come bere un bicchiere d'acqua non si preoccupi ne ho sì sì ne ho ne ho vinte molte di cause non si preoccupi per me quella è una passeggiata adesso la devo lasciare che c'è una persona come no no non si preoccupi lo faccio io non si a quella è un giocattolo per me non è facilissimo vincere quella causa per me è facilissimo arrivederci 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 attacca fa desidera quello so guarda fa abbocato sono tecnico della telecom sono buona attacca la linea del telefono ahahah